I corsi di tennissuola.org propongono percorsi di apprendimento differenziati a seconda delle proprie attitudini, obiettivi o preferenze. Puoi sempre muoverti liberamente fra le varie sezioni del corso conseguendo l'accesso a nuovi quiz e test quando raggiungi i risultati richiesti. Se desideri o preferisci accedere ai contenuti teorici accompagnati dalle video lezioni che trovi sul canale youtube di tennissuola.org allora accedi alla sezione il libro e sfoglialo liberamente spostandoti tra i vari capitoli e seguendo le video lezioni. Se invece vuoi seguire un percorso di apprendimento per obiettivi progressivi verificando passo dopo passo il loro raggiungimento attraverso quiz teorici e la risoluzione di esercizi di calcolo allora utilizza la sezione lo studio. In questa sezione gli argomenti del corso si rendono disponibili dopo che hai completato positivamente quelli che li precedono. In questo modo sei sicuro di essere nel posto giusto al momento giusto. Quando hai bisogno di un chiarimento o vuoi proporre un argomento di riflessione su un particolare contenuto del corso allora utilizza la sezione la comunità dove puoi porre domande ricevere risposte proporre approfondimenti agli altri utenti o al docente del corso. Nella sezione esercitazioni trovi i quiz di autovalutazione che puoi affrontare per verificare il tuo livello di apprendimento. L'accesso alle esercitazioni è progressivo da un argomento al successivo per rispettare il corretto sviluppo dello studio. In questa sezione raggiungendo il punteggio minimo richiesto per ogni esercitazione consegui i badge che dimostrano il tuo impegno e gli ottimi risultati ottenuti. I badge così ottenuti rispettano lo standard Mozilla Open Badges. Ed eccoci giunti al termine del tuo percorso. Hai superato con ottimi risultati tutte le esercitazioni di autovalutazione e vuoi dimostrare la completa conoscenza degli argomenti del corso. Allora affronta il test finale e superalo nel tempo limite impostato. Ricevi così il badge che attesta l'ottimo risultato conseguito e il superamento dell'intero corso. Complimenti!